Accogliere temporaneamente i papà separati che vivono senza una fissa dimora è questa la finalità della struttura di co-housing realizzata nella parrocchia Sant'Eangeli Custodi situata in via Sacco a Pescara e visitata dall'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco che ha promesso anche che la regione attraverso i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo mettere in campo risorse per potenziare il centro. È un progetto corale che va ad aiutare una fascia precisa e debole in questo momento e fragile e certamente come dire la regione con i progetti che farà soprattutto con un progetto sulle famiglie dell'FSE potrà metterà a bando dei fondi anche per potenziarlo. L'iniziativa è stata voluta dall'arcivescovo di Pescara Pene Tommaso Valentinetti e vive grazie al sostegno della parrocchia Sant'Eangeli Custodi di Don Giuseppe Scarpone e con la collaborazione della Caritas di Don Marco Pagnello. Sono venuti alcuni papà con questa sofferenza di separazione e sono venuto a chiedere ospitalità per la prima sera, non sapevano dove andare in quanto il giudice aveva assegnato la casa alla moglie e ai figli. Da lì quando sono riuscito a creare questo progetto ho pensato subito a loro. Questa casa si prefigge intanto di farsi compagna di viaggio per chi subisce l'evento separazione, per il papà che non può più incontrare i figli in un luogo sicuro. Allora così come in tante altre Caritas in Italia abbiamo cercato di dare una risposta a questo bisogno. Grazie.